Centrale, seguo un pirata che mi appena speronato. Inseguimento codice 3. Attenzione, unità di coppia, una volante è stata rubata dal destrezzo del Palmarvor. Riperto, una volante è stata rubata e ora è guidata da un civile. Vi faccio vedere prima possibile il numero di unità. Come dicevo, rivolgo di spietro la mano. Senti, e guardate dal bel ascio. A tutte le unità, a tutte le unità, aumentate la priorità dell'inseguimento a 4. A tutte le unità, attenzione, vi state avvicinando ad un blocco stradale. Blocco fallito, ma l'ha attraversato. Veicolo sospetto avvistato. Ha appena svoltato a nord, ripeto, ha svoltato a nord. Con il tuo Palmarvor, il G23 con il seguimento. Ascolta, l'auto ci serve. Ha evitato il blocco, ripeto, ha evitato il blocco. Avremo bisogno di un altro 10.73. Il sospetto si è piantato, continuiamo a girare qui sopra per doffarlo a pochettine. Blocco negativo, gli stiamo ancora addosso. A tutte le unità, abbiamo il blocco. Contro l'altro di schermo. È spacciato, prendetelo ragazzi, prendetelo. Il sospetto mi ha appena sprecciato davanti, ci sono. Sta girando a ovest, va verso a ovest. Ci ha girati. Ripeto, ci ha girati. Aggiornato se non è possibile. Sento di colpirgli la fiancata, voglio fermarlo. Centrale, mandatemi tutte le unità che avete e cercate di togliere i civili dalla strada. Questo tipo è un pericolo. Centrale, ho appena perso i rinforzi. Mandatemi subito altre unità. Unità 9-9, appena asciutto della vostra posizione. Stiamo arrivando. Aggiungete anche me, sono quasi sul posto. Attento, finirei per rovinarla. Attenzione, tutte le unità sul codice 3. Il sospetto è stato segnalato su direzione Aves. No, un attimo a nord, direzione il nord. Su G1-6. Creare un quadrato nell'area limitrata. L'operazione verrà coordinata sul canale 2. Attenzione. Centrale, se dovevamo trovarlo, l'avremmo già trovato. Penso sia ora di annullare la ricerca. Centrale, se dovevamo trovarlo, l'avremmo già trovato. Tu senti niente? Qualcosa puzza. Già. Ho qualcuno. Conosco quell'odore. Mi sono liberato di quella puzza di unto, viscido e sudaticcio molto tempo fa. Per accertarmi che non sei uno sbirro, dovrò metterti alla prova. La macchina della polizia non mi è bastata. Rose rimarrà in contatto. Andiamo, lascialo a me. Ehi, ehi, ehi. Se fa una mossa sbagliata, è tuo. Per adesso è tu. Unità di battuglia, abbiamo ricevuto la segnalazione 516, una volante di insedimento. Tutte le auto disponibili convergono in prima possibile posizione. La persona mi è sangri e il giugno è saldizzato. Incidente, incidente. Ce l'ho. Siamo ancora in codice 3, è riuscito a passare. Sta procedendo contromano. Ripeto, contromano. Contatto visivo interrotto col veicolo in codice 6, restate in attesa di istruzioni. Unità di codice 3, l'auto ricercata è stata fissata in direzione nord. No, attenzione verso ovest, ripeto, verso ovest, sulla mountain highway. È stato autorizzato in quadrante. Altre unità verranno inviate all'interno del cilindotro. Ok, centrale. Sto ricevendo i dettagli del quadrante. Arrivo sul lato nord. Cosa. Cosa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.